Allora, nome e peso? Claudio, 91. Mi differenzio da quell'altro. Quanti chilometri sono? Un chilometro e mezzo. Ci mettiamo? Quanto? Un minuto. Claudio, 91, Francia. 1.100 l'ora. Applicata partito. Buon volo. Grazie. Ciao. 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 Buon volo. Buon volo. Buon volo. Buon volo. Ciao. Fermo con le mani. Un po' più vai in piedi. Buon volo. Buon volo. Buon volo. Buon volo.